La Pantera Nera non ha intenzione di lasciare la Puglia. Dopo gli avvistamenti ad Ostuni, San Severo e Acquaviva delle Fonti, ora la caccia all'animale e alle porte della città, in particolare nella zona di Loseto. E tra i residenti del quartiere c'è allarme. A segnalare la presenza dell'animale sui social è stata la presidente del municipio 4, grazie albergo. Da questa mattina i militari della forestale, a scritto in un post, grazie albergo, la polizia locale e la protezione civile stanno ispezionando le campane di Loseto per verificare la solidità di alcune segnalazioni effettuate dai cittadini sulla presenza del felino. Alle operazioni di ricerca e avvistamento stanno partecipando anche i vigili del fuoco, a spr grantικ합니다. Bro.